ciao a tutti e benvenuti a questa recensione arrabbiata di doomsday clock il nuovo mega evento nuovo insomma è uscito adesso in italia distribuito dalla panini comics ma in realtà è già finito da un bel po negli states questo è il cartonato che racchiude tutti e 12 volumi gli spillati della saga ed è a tutti gli effetti un sequel di watchman del noto watchman di alamur e dav gibbons oltre che essere un originale punto di ripartenza dell'universo dc quindi in pratica i due universi si incontrano quello di watchman e quello della dc comics classica quindi superman batman e gli altri e interagiscono in questa nuova storia firmata da joff jones gary frank rispettivamente sceneggiatore e disegnatore senza soffermarmi sul lavoro del del dell'artista del disegnatore frank che è strepitoso a caso mostro qualche tavola ma è davvero superfluo dire insomma che cosa abbia fatto questo artista in questa quest'opera insomma non non credo ci siano dubbi nel oltre la simpatica cioè simpatica insomma l'omaggio come struttura narrativa di riprendere la griglia 9 di tipica di alamur soprattutto nel watchman c'è anche un po un tratto che ricorda vagamente quello di gibbons ma ovviamente con uno stile molto più moderno anche dovuto ai colori di questi anni 2020 detto questo perché una recensione arrabbiata perché l'universo di watchman così come l'avevamo lasciato con adrian veit che aveva in qualche modo fatto questo mega complotto che aveva salvato il suo mondo dal dal dalla guerra nucleare avevamo lasciato inoltre poi rorschach che era riuscito in qualche modo a spedire il suo diario con tutte le sue scoperte quindi sul complotto anche che aveva appena scoperto con con night all in questo seguito veniamo a sapere che quindi quelle rivelazioni sono arrivate effettivamente alla stampa quindi la scoperta di rorschach e di dominio pubblico quindi adrian veit da da aspirante salvatore è diventato il ricercato numero uno perché a lui adesso vengono imputate tutte le le morti milioni di morti che erano avevano colpito manatta se non ricordo male new york non ricordo benissimo adesso dove era precisamente piombato il il polipone gigante alla fine di watchman e quindi questo cosa comporta comporta che nuovamente quel quel mondo il mondo di watchman è sull'orlo di una terribile crisi tra le potenze politiche quindi adrian veit ci riprova si mette di nuovo alla ricerca di dottor manattan l'unico che può salvare questo mondo e scopre che in realtà dottor manattan non è realmente andato su marte o almeno non ci è rimasto troppo in realtà dottor manattan è andato un po a a mettere il dito tra i fili del del destino nel multiverso della dc allora questa idea è originale è molto ingarbugliata a mio avviso e non è spiegata benissimo il multiverso non è più un multiverso con la presenza di dottor manattan che interagisce sui vari pianeti dell'universo di si il multiverso diventa un metaverso ce lo spiegano in questo fumetto il metaverso si starebbe ad indicare che praticamente ogni pianeta viene influenzato a sua volta dall'altro cioè se quindi dottor manattan compie una determinata azione su terra prime per dire automaticamente qualcosa va ad inficiare anche su terra 52 o su terra 42 insomma quali quali che siano quindi di conseguenza e questo è questo crea una continua catena che è addirittura fuori dello stesso controllo di dottor manattan quindi capisce lui che questo multiverso o meglio metaverso è un è un diramarsi continuo di diverse sequenze di causa effetto che vanno ad inficiarsi una nell'altra e quindi finiscono per per portare cose totalmente fuori dal suo controllo lui ovviamente riesce sempre però almeno in parte insomma a metterci una pezza perché comunque lui ha la sua visione del tempo che è il diamante che ci dicevano in watchman e quindi lui riesce a vedere tutti i lati del tempo non come passato presente e futuro come noi comuni mortali ma come con una prospettiva totalmente diversa con una fisica insomma completamente diversa che riesce a ad essere nello stesso momento tutte e tre le linee temporali le riesce a vedere nello stesso medesimo momento quindi essenzialmente per il tempo non esiste insomma è diceva la metafora del diamante insomma che lui lo gira semplicemente vede tutti i vari lati del tempo contemporaneamente e lui li vive contemporaneamente in effetti quindi anche essendo fuori dal suo controllo questo metaverso lui comunque riesce a a vedere ciò che accade in tutti i vari universi della della dc rimane comunque spettatore indifferente fino a che non si interessa alla figura di superman lui coglie che in questo metaverso la figura determinante il personaggio che sembra incidere più di tutti in tutte le varie concatenazioni che si verificano tra universi dc uno con l'altro quella di superman è la figura centrale cioè è è quella verso cui intorno al cui tutto ruota insomma in poche parole la differenza di che forse l'ex luther l'ha intuito ma l'ex luther se lo riferisce a se stesso essendo però l'ex luther il nemico la memesi principale di superman quindi possiamo dire che in parte lui l'ha individuata l'ex luther non a caso anche lui il più intelligente come ci dice nel primo mi pare capitolo di questo racconto è il più intelligente della sua terra come appunto la tramventa il più intelligente è il più intelligente della sua quindi dicevamo ricapitolando se superman è il fulcro di questo universo del me nel metaverso dottor manathan a questo punto quindi capisce che deve fare qualcosa per concentrarsi sulla sua figura e da qui poi viene la risoluzione finale perché dottor manathan rimane una figura onnipotente onnipresente onnisciente una figura quindi divina che però rimane uno spettatore uno spettatore indifferente lui riflette su se stesso questa potrebbe essere anche interessante come 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 concetto perché in quanto dio dio è comunque indifferente insomma dio è nascente onnipotente e onnipresente ma sostanzialmente indifferente altrimenti sarebbe parte attiva cioè un dio attivo poi in realtà potrebbe anche compromettere appunto il funzionamento del del mondo dell'orologio leibniziano diciamo così quindi in questo in quanto divinità manathan ci sta che insomma osserva ma non prende mai parte essenzialmente poi allora da qui c'è l'intervento di veit ancora una volta cattivo fino a un certo punto anche in questo caso alla fine il suo intervento è cioè la sua la sua presa di posizione il suo atto funziona ancora una volta perché lui insomma porta manathan a scontrarsi con super meno meglio porta superman a prendersela con manathan insieme a tutti gli altri supereroi della dc quelli buoni fino all'epilogo insomma che poi si risolve con un schioccare di dita di thanos sostanzialmente per usare un esempio della concorrenza il problema appunto qual è che questo è un romanzo bello grosso insomma una graphic novel bella grossa se credo siano su intorno alle 500 pagine 400 450 pagine quasi ha messo molta troppa carne al fuoco non viene svelata la cosa dei tre gioco e molti si sono avvantati di questo ma in realtà ci sta perché ci sono adesso i tre gioco in in corso i tre numeri che spiegheranno questa cosa quindi la rivelazione fatta sul sul nuovo universo di si non ricordo di si rinascita verrà spiegata lì insomma questo è un continuo diretto di rinascita e quindi si poneva insomma l'obiettivo si poneva l'obiettivo di risolvere quella situazione lì sappiamo quindi che è stato manhattan ma manhattan perché lascia queste fotografie quando al suo passaggio allora manhattan dottor manhattan comunque non è magia qui mi pare che comunque poi a un certo punto si si lasci si lasci chiude si chiuda un occhio su certe cose e le si giustifichi in qualche modo ci sono poi altri problemi innanzitutto il problema di batman che sembra sia per fare qualcosa di risolutivo alla fine che che sia decisivo convincere rorschark al fine di aiutare superman nella sua nella sua sfida finale con dottor manhattan non l'ho capito cioè non è servito assolutamente a nulla è la presenza di batman essenzialmente proprio in tutto la in tutto il ciclo narrativo da miglior detective da miglior detective del mondo parte come uno stupidotto verso il finale a un un apporto nullo cioè questa questo contentino finale con questo confronto con il neo rorschark e che stucchevole addirittura è proprio inutile ed è così inutile da risultare poi stucchevole cioè è meglio non metterglielo non mettercelo ma secondo me si poteva trovare una particina più sensata per batman è tutto è troppo il fulcro è troppo su superman a me questo un po dispiace perché non solo perché batman è il mio personaggio preferito della di sì ma perché poi sostanzialmente insomma mi pare che capisco insomma posso capire che comunque la dc sia di nuovo cercando di puntare tutto su questo personaggio qui che comunque questo personaggio ci sta e c'è una metafora anche un po religiosa forte potente tutto questo essendo manhattan dio ed essendo da sempre superman in effetti il messia quindi una sorta di gesù di nazareth ci sta che questo confronto sia insomma poi il finale appunto manhattan che lascia la terra quale che essa sia forse va addirittura via dal metaverso e lascia suo figlio quindi dio che lascia la sua reincarnazione il suo primo genito che poi non è primo genito ma è come se lo fosse perché lui salva la vita di marionetta che era incinta di questo bambino cioè non è che la salva la risparmia quindi come se risparmiando una vita è come se gliela avesse ridata e quindi porterà praticamente quasi in grebo suo figlio che però è figlio di mimo ovviamente di mimosi quindi vabbè la sto prendendo un po larga per per far rientrare la metafora di questo figlio di dio che poi viene chiamato appunto clark e che quindi fa capire che lui anche in superman ha visto proprio questa è il fulcro insomma di questa di questa intera vicenda male il personaggio di batman rorschach parte male sin dall'inizio anche lui non è non è un personaggio che ha funzionato la potenza di rorschach del primo rorschach era quella suo essere insomma un anti eroe scomodo un po di destra insomma era era un personaggio particolare un sovversivo reazionario questo qui già già parte insomma con questo politically correct che è un ragazzo nero quindi già fa capire che siamo tutti in un'altra direzione un altro problema del del racconto è quello che era nel nel watchman era il metafumetto cioè la storia dei pirati adesso mi sfugge il nome quella del corsaro nero mi pare una cosa del genere che lì rappresenta un po come dire l'interpretazione funge da lavoro ermeneurico qui invece non è così qui invece abbiamo una storia appunto parallela che in pratica è semplicemente un'aggiunta una cosa in più non è l'interpretazione dell'opera non funge da chiave di lettura è un altro elemento del puzzle anzi forse l'elemento principale che a un certo punto infatti l'ex lutor arriva a collegare tutte queste cose per questa figura dell'attore che adesso mi sfugge il nome nathaniel dusk è il personaggio che interpreta nei film film di genere noir non mi ricordo il nome che poi si scopre essere omosessuale quindi c'è un'altra strizzatina d'occhio al politically correct che tanto piace ormai agli stati uniti sono elementi che sostanzialmente non risultano poi superflui perché non è non è questa la trama ma non è non è non è la questione su porcarità poi non è la questione sull'omosessualità il problema la questione è che comunque non è usato nel modo che ci aveva diciamo così sorpresi ad usare non è stato nel modo che aveva che aveva utilizzato a lamur che che era stato sorprendente cioè offrire una 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 componente metanarrativa all'interno di un fumetto che servisse da chiave di lettura per tutto il fumetto in questo caso è una è una trama parallela che serve poi a congiungere alcuni fatti ma non è la chiave di lettura è una è una seconda trama insomma che procede poi si ricongiunge col col finale che ripeto rimane rimane davvero poco chiaro questo dio indifferente totalmente insensibile al mondo improvvisamente rimane convinto dalla bontà di superman che invece è un uomo d'azione e che che l'eterno boy scout come lo definisce qualche volta il batman di frank miller è il bravo ragazzo che pensa sempre positivo male insomma maluccio perché poi la storia la saga è bella porta molte cose porta troppe cose al fuoco a campo troppa carne al fuoco indubbiamente il comico non abbiamo capito come si trova lì mi pare di aver capito cioè lo lascia un po spiegare alla fine quando l'ex luthor tira fuori questa pistola laser cos'è una pistola laser che lo riproietta lì dove doveva essere cioè in caduta dopo che osimandias la l'ha buttato giù dal grattacielo no non l'ho capita cioè il comico non non ha una spiegazione cioè o comunque forse non non è stata resa chiara cioè la l'hai dovrei andare magari a leggere inizio ma me la dovevi spiegare un attimino meglio ma cioè me l'hai veramente lì è stato proprio lo schiocco di vita di thanos cioè non caccia sta pistola laser e lo riporta dove doveva stare cioè all'inizio di watchman non ho capito nulla cioè non perché che cosa era quella cosa non ho capito quindi il comico credo proprio proprio veramente cioè non abbiano avuto il tempo di cioè dovevano metterlo l'hanno messo insomma rorschach è stato più ragionato invece facciamolo è morto ma facciamo costruiamo su di lui già da subito un background che spieghi chi è questo nuovo rorschach il comico invece hanno detto beh magari lo spieghiamo nel tempo ma poi non hanno avuto tempo non c'è stato il tempo e quindi hanno fatto così tutta la questione sui meta umani insomma sui super umani sul gene metagene lì insomma metagene come dovrebbe essere pronunciato non lo so io queste idee qui le vedo sempre un po' una rilettura di civil war si crea un po' sempre quelle dinamiche lì insomma ormai mi sembrano un po' abusate nel mondo dei fumetti questa questa dinamica degli umani contro i super uomini supereroi eccetera e viceversa e gli schieramenti che si crea che civil war quella quindi già l'abbiamo vista però è interessante come punto di partenza era poteva poi deve essere forse interessante sviluppare senza la la storyline di adam block di adam black black adam senza sviluppare quella storyline lì concentrarsi di più invece sul sul nucleare sempre quindi questi supereroi che diventano armi nucleari e quindi non mettere supereroi contro supereroi ma spingere ancora di più il piede sull'acceleratore della questione politica quindi come stava strizzando l'occhio alla lì nella piazza di mosca quando quando si vede putin quella è carina come idea spingere più su quella questione lì cioè farmi vedere di più la tensione politica delle nazioni dei governi quindi non farmi vedere solo putin ma farmi vedere anche qualche altro prese premier mentre invece black adam ma goddio non è che poi prenda molto le scene però insomma distoglio un po' da quella cosa lì e vira troppo su civil war quindi avrei preferito di più invece la guerra tra nazioni senza questa distrazione qui solo questo l'idea ci stava insomma era interessante quella lì perché appunto sostituisce il problema del nucleare con con i supereroi con questo complotto tra l'altro che anche un po' attuale sul populismo tra l'altro siamo in era covid quindi l'idea di questo complotto della territoria del complotto sui superuomini creati dal governo era interessante cioè si poteva spingere forse ancora di più vero è che quando l'hanno iniziato a scrivere non sapevano che sarebbe successo quello che è successo però insomma è un'occasione mancata anche questo in conclusione dunque vabbè disegni ripeto solo già solo per i disegni e balletto sicuramente c'è anche poi il comparto di extra a fine di ogni capitolo in stile watchman insomma che approfondisce alcune alcune parti della trama e più che altro da un po di profondità alla 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 la loro per il resto insomma manattan è un personaggio che da un lato è facile da scrivere perché ha una sua poesia intrinseca dall'altro lato però poi è difficile da gestire è una divinità e quindi come la tieni sotto controllo quindi credo però abbia anche un po troppo abusato questa narrazione da flusso di coscienza sfasato a livello temporale cioè sì abbiamo capito che manattan vive il tempo in questo modo però in pratica lui poi è solo così cioè per tutto tutta la parte la dita scaliere cioè il pensiero fuori campo diciamo così del dottor manatta è tutto insomma sul è il 1954 sono al tavolo di un bar e vedo questo vignetta dopo è il 1988 sono qui e faccio vignetta dopo è il 1940 sono vicino alla stazione ferroviaria e raccolgo esposto di 15 centimetri la lanterna è tutto così dottor manatta quindi credo siano 30 40 tavole se le mettiamo tutti insieme di manattan che narra la storia in questo modo considerando che manattan arriva solo dopo il sesto numero il sesto e il settimo e quindi poi mi pare c'è un'altra pausa e quindi poi riprende dall'ottavo fino alla fine e sono pesanti poi 50 pagine 50 pagine così nelle ultime 100 quindi sostanzialmente insomma anche a livello di scrittura ha abusato un po' troppo di questa di questa cosa insomma che ci sta che è bella cioè però l'ha inventata alan moore e quindi quindi questo è merito di alan moore in conclusione dunque scusatemi in conclusione è stato un bel viaggio e poi alla fine le opere si giudicano anche per il piacere che hai avuto durante il percorso questo non può far scendere quindi al di là del finale che secondo me è insoddisfacente che lascia aperte troppe cose che non è proprio il finale in sé non è non è nulla di originale però insomma il percorso cioè la confezione è stata gradevole è stata buona ed è stata gradevole lavorare il viaggio quindi sotto il 5 sicuramente non può scendere credo però non di più insomma da 1 a 10 se dovessi dare 5 5 e mezzo insomma se watchman era il capolavoro irraggiungibile che rimane appunto irraggiungibile che rimane lì da 9 perché vabbè la perfezione non esiste credo che comunque insomma questo sia quasi la metà a livello di resa finale un poco più della metà insomma non è un 4 non è un mezzo ma è un 5 e mezzo meno quindi che senso ha avuto farlo ha avuto senso perché questo comunque rimette di nuovo un po' in sesto le cose nell'universo di sì cioè se lo consideriamo ecco qui se lo consideriamo come prodotto fine alla narrazione dei prossimi cicli che infatti già li accenna cioè ci saranno diverse altre crisi questa cosa insomma di superman rimarrà centrale sempre nel metaverso della DC quindi in questo senso qui a livello di continuity è un lavoro fondamentale e andava fatto si è scelto di farlo con il dottor Manhattan ci sta probabilmente si poteva estrapolare soltanto Manhattan da quell'universo narrativo senza andare ad intaccare come dire gli altri personaggi sarebbe secondo me uscito qualcosa di forse anche di più originale nell'insieme invece come sequela di Watchmen ed erudente forse è veramente una bestemmia considerare considerare poi questo come seguito di Watchmen non è un seguito di Watchmen cioè facciamo finta che quello lì finisce così insomma facciamo che non sia mai esistito questo nell'insieme insomma sì mettendo le due cose negative un bel sette come continui di DC cioè ha messo magari in ordine un po' di cose e apre soprattutto interessanti e prospettive del futuro un 4 scarso come seguito di di Watchmen e quindi la media qual è? sì 5 e mezzo siamo lì tra 4 e 7 e 5 e mezzo finito qua mi fermo qua ciao a tutti grazie